Si svolta stamani a Palazzo San Domenico, presso la Sala Spadaro, la conferenza stampa per lo spettacolo dedicato ai 50 anni di Marina di Modica. Uno spettacolo dove è stato inserito tutto ciò che era possibile, nato da una ricerca capillare anche a livello storico. Una manifestazione ideata da Francesco Roccaro. Presente anche il pittore Franco Cilia, che in occasione dei 50 anni dell'amata frazione balneare di Modica ha donato al Comune una sua opera. Un'immagine del mare, del mare di Marina di Modica, mi sembrava la cosa giusta per questo cinquantesimo anno di vita, che sarà molto molto lunga, perché Marina di Modica merita l'amore che questa manifestazione vuole testimoniare.